Verso l'efficientamento energetico e la sostenibilità delle attività portuali e l'obiettivo del progetto europeo Interreg Italia Albania Montenegro Smartport che vede come capofila l'autorità di sistema portuale della Mar Ionio il dipartimento ionico dell'Università di Bari ha ospitato una giornata di confronto e di studio sui risultati del progetto tra i protagonisti di Smartport i porti di Taranto, Bari Montenegro e Vlore in Albania il comune di Termoli e Arpa Puglia Sono stati sviluppati una serie di progetti che per quanto riguarda la sostenibilità ambientale in particolare prevedono la realizzazione di un sistema integrato di monitoraggio di tutte le matrici ambientali del porto di Taranto, la raccolta dei rifiuti, l'elettrificazione I benefici saranno legati a piani che mirino alla riduzione dell'impronta di carbonio quindi la riduzione di produzione di CO2 nei porti L'autorità portuale che porta avanti questo progetto nella fattispecie intende creare delle misure proprio per aumentare l'efficientamento energetico nei porti messe su delle strategie di intervento per la riduzione dei consumi e dei fabbisogni e dell'impronta di carbonio Arpa ha supportato queste attività in termini tecnico-scientifici